Celebrata la prima giornata degli abruzzesi nel mondo, il Consiglio regionale ha assegnato le onorificenze di ambasciatore d'Abruzzo nel mondo a quattro abruzzesi che nei rispettivi campi si sono particolarmente distinti nei paesi stranieri o nelle altre regioni italiane in cui sono immigrate in passato e dove attualmente vivono. I riconoscimenti attribuiti nel corso di una apposita cerimonia che si svolta presso la sede pescarese del Consiglio regionale sono stati consegnati alla soprano pescarese Carmela Remigio, ad Armando Traini, presidente del sodalizio abruzzese molisano di Padova, all'imprenditore Tony Fini, originario di Casoli ma residente dal 1951 in Australia e ad Alberto Di Giovanni, direttore del centro scuola presso il Columbus Center di Toronto. All'iniziativa ha partecipato anche l'assessore Mauro Febbo. Nella sua veste di presidente del CRAM, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, Febbo ha ricordato che gli emigranti abruzzesi sono attualmente circa un milione e 300 mila.